Se i tedeschi conquistano questa città, cadrà l'intero paese. Voglio che i nostri uomini resistano. A noi servono degli eroi. Tu conosci qualche eroe? Ne conosco uno. Armato solo di un fucile, ha fatto subito capire all'invasore nazista che sarebbe potuto soltanto tornare indietro, d'ora in poi. Vassili! Vassili! Ho visto come la gente ti guarda, Vassili, e tu significhi qualcosa, qualcosa più grande di te. L'intero paese ti sta osservando. Questi cecchini demoralizzano le truppe. Hanno mandato il loro tiratore migliore. Sembra che sia venuto da Berlino per fermarti. Come intende procedere per trovare questo giovane russo? Farò in modo che sia lui a trovare me. Una battaglia fra due nazioni diventa una sfida fra due uomini. Non ho alcuna possibilità contro quell'uomo. Se lo uccidi, puoi farci vincere la guerra. Hai promesso al popolo una vittoria che io non posso ottenere. E c'è una ragazza di cui è innamorato nel suo villaggio. Non nel suo villaggio, qui. E lei lo ama? La regista Jean-Jacques Annon. Vassili! E ucciderà! E ucciderà anche me! Jude Law. Lei crede in te. Joseph Pines. Tu mi hai voluto far diventare per forza qualcosa che io non sono. Rachel Weisz. Sembra che i vostri vestiti siano intrecciati. Bob Oskins. Dov'è lui? Dov'è Bastien? È morto. E è Terris. Non è morto. Perché io non l'ho ancora ucciso. Un eroe non sceglie mai il suo destino. Il destino sceglie lui. Il nemico alle porte. Un film di Jean-Jacques Annon.